ma ce l'hai ancora il drago sotto controllo sì dai sì 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 no ce l'ho ce l'ho il drago ce l'ho è sempre allora un sacco di pressure per il tele ma non è un campione così difficile non prometto di tartare povero nico sempre i troll nella tua squadra comunque ragazzi scivano a base scivano a base è fighissima anzi molto ma guarda quanto è bella scivano la skin base di scivano è più bella delle skin no quella blu ma ma non pensavo scivano normale fosse così figa non giocavo scivano a base da una vita ma che bella vuoi splendida se più di una versione in team compra l'oggetto che aumenta la spell power l'effetto si accumula non sembra quale sia l'oggetto che aumenta lo spell power se ti vuoi interessare su tft sicuramente funziona se un giorno abbiamo un top laner che gioca ip tipo magari brand o bard possiamo provare che ne ucon e invidiamo sì perché no io ti assicuro staff water non ne ho idea tu dare fastidio beh io comunque farmo e poi ci vediamo al minuto 10 ci vediamo più o meno l'appuntamento facciami drake il primo è infernale esatto allora va bene ci si vede al drake e poi dopo una decina ogni sei minuti ogni sei minuti cinque o forse cinque o forse cinque ma non ho messo ogni cinque minuti drake o sei minuti cinque minuti drake ogni quanto spawn nei drake grave cinque no era sei hanno messo cinque poi ma un tempo era sei però ragazzi uno dei miei collega è finito oltre il muro ma guardate che roba ok non giudico non commentiamo non sono più per giudicare gli altri ma solo per farmare male molto male ma va sai che non ganko non serve il flash non devi fare niente quindi quindi flash ragazzi non ho ancora scaricato blitz mannaggia a me voglio scaricare l'applicazione che ti da il timer sui campi andava tutto bene perché mi sono accorto che quella w mi stava per rottare e poi sarei morto di cui a quel preciso istante ma il piano era pushare due wave e poi andare a risultare ma l'hai fatto l'hai fatto si per modo di ha frizzato e ha perso ma tu lo usi su tft sei veramente patetico nico dico sei veramente patetico mai visto umano più patetico è andata ti guardo penso di andare a base ero solo di passaggio vabbè ok top potrebbe venire mid va vabbè let's go bot lane io che avevo detto è vero si dove dovevano perdere c'è cadvix o ti scesa perché pensa di vincere oh mio dio gustione sulla copia flash sprecato tra lì starà morendo dentro andava tutto bene finchè ha flashato pure c'è morire pazienza e teleport adesso ritorni in lane stai bene ha pure il flash mi sono suicidato lui non se l'ha mai fatto non penso abbia flash no tragico cioè lui ha ammazzato top senza flash up anche ero convinto non ce l'avesse onestamente il flash up ma ho sbagliato io eri sorpreso dal fatto che fosse ancora lo scatto no 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 allora era scontato forse bot set allo scatto ero sorpreso se ci fosse lo scatto ma era quello respawnato bot set mi sa non era il primo quindi lui era il primo comunque era era sbagliato mi sono distratto mi sono ammazzato però non pensavo il flash ma lui ha ammazzato top senza si ma è strano anche perché jacks aveva il flash si si ma jacks ha la e non è quello che viene fatto da caldo vabbè ok scaliamo vabbè forse oh mori anche tu eh ah ma sono isolato cosa ho sbagliato ma perchè sei sei disgustosamente tank si ma la tua passiva c'ho già tantissima armor ma non pensavo di farmi fare così tanto male questo cos'è che ha noi diamo una kill a eloi could why not non lo sapevo che è morto jacks come è morto jacks era morta e ha preso il trioncchio che cacchio ha preso ah 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 guardate sto schifo di tentacolo vivente ok cosa è che mi fa far paura questa partita il laoi però ci penso no non è scary laoi ah ok vabbè non lo sapevo i jacks ah 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 come ha fatto a morire che cosa è morto avevo preso il flash il laoi la r stava per morire a me ha meno paura a kazix anche perchè non ha tabi però può far paura se eh eh cancella tutti voi karma non farà niente però gancarella è sempre pericoloso hai la ulti eh non ancora aspetta la tua ulti no dai per un bel po' non ha flash boh io sono fortissimo quindi vengo con te in qualsiasi cosa poi no c'erano due persone mi sa voltare si a parte una placca io le faccio veloce vogliamo adevare? qual è il piano? si alla ulti alla ulti alla ulti si quindi devi tenere conto vabbè oh va giù va giù andiamo vabbè ci scambiamo la jungle ci scambiamo aspetta si si ti guardo oh se viene è un problemino per me eh ma io non non teletrasporto mica non assicuro impara? dopo tutto sei Goku? si un pinga bottle lo diamo diciamo che non ci vada perchè comunque le colloqui cose non so perchè KZX abbia deciso di intraprendere il patting sbagliato come lo intendi il patting sbagliato nel senso che è andato a bot? eh si ok vedi quello che ho fatto a livello 1 o 2 era tutto pianificato quello lì si è rilassato esatto penso vabbè questa è bad luck player un vero scimmione il classico ci sta si anche io sono 0-2 per un motivo infatti mhm voglio farglielo credere bene non solo spiegando il flash si tu ti stai meditimando bene io ho friso mid ovviamente cerco magari di solo killarla e facciamo drake oppure facciamo mid no no vengo io vengo io fai il R e gli faccio il R e si si adesso magari arriva anche KZX quando vuoi vado esatto ci facciamo anche KZX beh io mi faccio l'ha acceso si si c'è il c'hai la c'hai la non credo ci sia il bulbo no io ho tra 10 secondi e il flash mannaggia 7 secondi se no saltavo di là 7 secondi la provi? no era stai attento ah ma è la vuoi prendere torre già adesso? se vuoi possiamo eh è un po' presto raga se prendiamo torre significa che io devo ho perduto lavoro e vado a bot tipo e divemiamo bot ma con bardo oh ci facciamo il drakebust ti guardo in caso ti aiuto a farlo? così ce ne andiamo faccio in fretta cerca KZX tu fai già in fretta non ho smite anzi ce l'ho smite fai in frettissimo cos'è? il drago è broken la prima cosa che fa è i draghi KZX interessa? io no io adoro le mid non ho ulti faccio poco poca mano no 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 lo dovevo dire basta che amore guarda non voglio morire ma questa è l'ulti no ah non c'è l'ulti ok ah ma c'è KZX no 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 però non fa niente aspetta bene io devo rendere le midi è chiare ah allora è worth è persino worth è farm lo renderebbe più chiare nel senso che io lì è schifo io li vorrei fietare questi ah 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 c'è KZX puoi venire eh? lo baito lo baito eh? sto venendo sì 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 però non morirci sai ogni volta che bello bellissimo eh ma not worth la mia wave can ah 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 Noi comunque ci impegniamo un pochino giusto in caso E laoi faccia il laoi Nel senso che Jax non si sta divertendo affatto È grassa il laoi Sì, Jax Qualche problemino tecnico Guardate come spreca lo stop Oh, io, Tabis E poi c'è Trated C'ho Tenacity Quindi Karma e Bardo Ma cos'è quello in top? Andiamo verso il pesce Io faccio un'altra freeze mid E ce l'ammazziamo un'ulteriore volta Oh, andiamo a bot Sì, non ho un'idea Però ho guardato la nostra jungle da qualche parte Ok, allora pusho mid e vengo bot Ma il blu di Kha'Zix? Facciamo quello? Si potrebbe Tu però Bardo non è il portale Ok, però stai Attento al laoi Perché C'è No Andiamo per il tre Mardo? Vai 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 Oh, ho sbagliato io Però adesso ce ne andiamo No, ma che male che fa Ti serve shift Si ha bisogno di Harvest Non ci sono eh Comunque lei sta tralicchiando Dici? No, forse no Ho un shotato Jax Io sto facendo mid Anzi mi faccio l'interattore Visto che è stato Sto Non fa paura Non fa paura necessariamente No, si caita Solo rispetto Pusho mid da back Non conosco il laoi ma sarei tentato No, 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 no Non le fai bastante male Ma va La buca Sì Flash Non ho partito in teccolare Ma la poteva ammazzare Mi so, sai Ah, no Teni in mente che Quando ho ultato Tu non la knock up Vabbè Comunque una flash Ah, benissimo Ma Jax Ragazzi L'ho bucata L'ho bucata Avete visto che danni? Ho preso il flash La stavo bucando Ma che cosa dite? Io adesso Quando sono avanti Sì su Diana Che sono Wukong Con la goccia Ma Mi ha lasciato Con il 50 HP Reset Beh, facile Flashando via Ok Sono tutti bravi Col flash Sai che non so Se voglio Faitare Drake Sono 5 Cioè dovremmo ammazzare Bene Tutti gli altri Io sono topside Va bene Non so se salta Ah Kha'Zix è vicino Viene dalla mid L'avete visto? Sì, sì, sì Vuole piazzare Herod O non lo vuole fare Qui c'è il karma Ma lasciamo il drago Lasciamo Bene Oh, sì L'avranno già finito La fine Jax Prima o poi Si sveglierà Tutto il tempo Che gli diamo Viene a pushar Mil dopo Se vuoi Io la R Da dietro Ti posso coprire Sì, sì Di là Non c'è Botside Se vuoi Vengaggiare Io voglio saltare su Kai's Io voglio saltare su Kai's Vado Oh, no Niente Entriamo Entriamo No, ma Exhaust Ok Stiamo pushando Mil do E facciamo la torre Facciamo la torre E basta Va bene Abbiamo già fatto la torre Sì, non è male C'è lao e dopo Sette tempo Jax Comunque Stiamo dando Un po' di tempo Di farmare Anche le wave Giuste Abbiamo preso anche Summoner Flash di Kai's Exhaust di Bard Hai visto altro? Qualc'altro Flash sarà Fiocato Provo No Stopwatch C'è il tatuato? Ehm Sì Cosa te l'ha fatto Prendere? Il cuore Non ho ulti Ma la La bucchiamo Adesso vince lei Penso Però vediamo Si può provare Beh si Kai's Ma le che va Eh ma se ti fai Iutare da lei Tipo Io cerco di non farmi Iutare da sti Mega Eh sono fastidiosi Sì È bello Un'altra esta Per far Oh ma tu hai il tuo cannone Io ho il cannone Sì Ah ok No mi spedio Ho preso Oh sta intando qui Io non ho una vita Non c'è la torre Ma tu Venite ad aiutarmi? Cioè Sì No Bra Bonk Fa il tentacolo Bonk Oh Ah Ma è bardo che stunna un botto Cos'è che ho dato? No Sta così Oh fragola Ma quando è che mi esci con Night Harvester In realtà forse Ce l'ho già No Ancora un po' No 500 500 500 500 Ma poi è divertente Perché c'è anche l'ami che mi buffa Le fight Sarà spicy Sì E c'ha Imperia Quindi Bene Ma la dobbiamo prendere Sta cessa Ok Comunque Kalista mi sembra poco utile come champion Una volta che Vai più di tanto Ma già che se passa Guarda Il valore delle wave C'è Guarda io adesso item Dopo i campetti Vado back Item Ok Io non ho lavoro Sì farmi un po' di jungle Mi sembra giusto Sì È che stiamo dando un po' Jax Magari un giorno Diventerà Si potrebbe anche lasciare Baron Dici? Va bene Io e Kalista Io faccio danno Kalista dovrebbe Sì Kalista si è fatto prendere Mascheriamo Perfetto Possiamo fightar meglio forse Io non l'ho shoppato Qui Ah non è là No Dove andare back Ok Piuttosto ult overp Tiro se serve Se non riesce a dare Tu posso Tiro se serve No deve arrivare in tempo Ma che fa Nami Nami è impazzita Ho perso la nota Per centri vita Nami è assolutamente impazzita La nostra Nami è strana Passo di qua dopo Bene L'importante che se non si facessero la torre Ah io la hold Oh ma sto cosa mi sta rincorrendo da Ma Sta arrivando mid Sta arrivando mid Sta arrivando mid Bel zone Guarda ha flashato Ok Un pochino di Troy Loy Ancora Ok No niente Ah no Aspettate Se lasciassimo bar Mentre fanno il drake Va bene Quindi è quello Tipi di jocks anche Vrendo Sì 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 Vai da la strada anti-scam Non c'è nessun vuoto Mi sa Bene Ti aspetto Sta arrivando Non fatti questa strada No 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 Non c'è bisogno Vai 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 Lasciate lasciate Sì 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 ma Penso Non c'era bisogno di Nami Vabbè Giusto mia opinione Ci hanno visto eh Sì 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 Io non ho ult Quindi noi non fightiamo bene Però se riusciamo a prenderceli Andarcene Oh questo ce lo prendiamo Ma ci si potrebbe girare con calma eh Ho ulti adesso Io ho ulti anche Anche Va bene vado su kites dopo Se ci cessa no Per me ci si gira cavoli Sì Voglio andare su kites Guarda guarda questo qui Guarda questo qui E dallo shutdown ha intato Questo è bene Ho preso ovviamente L'ha preso Nami No Karma Ho premuto Ho fuggiatola eh Oh Jax 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 niente Vabbè è andata bene Andata bene Sì è andata bene Hanno stato un sacco di flash Hanno stato Sì ma Ci dimentichiamo anche il fatto Che abbiamo appena Per risopare Vabbè Lì non si poteva Non punire L'ho Tirava dritto Poi si poteva Anche non proseguire Il fight Onestamente Basta Ti fai tutta la bot Yes Se c'è Non c'è Se c'è Dai un grumpetto Ci sarà Esatto Però il grumpetto Mi dà anche Fiori Ok Prendo Antigrid Questo fa male Quindi Però Io Ho un bello engage Con la R E tu Con anche flash No mi si è ammazzata Mi sa Vi ho perso il sushi Forse Jax sta trollando Sì Grazie per il tab Ma Jax finché non ti prendi il port Non si sposta nemmeno Grazie Parla Bentornata Da quanto tempo Sì Può caiutare Sta arrivando Oh ulti Non ti serve Fai male Io faccio male Sì 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 Ma perché Ha priorizzato Armor Ma non l'ho riuscita a prendere Io vorrei Guarda che fa quello Che tristezza Ma ci facciamo il top blu dopo Pusciamo il testo Mi faccio il rubino Potevo fare un po' di torre Mi sa Ah ma ti serve No no Prendi 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 Tanto dobbiamo aspettare il team Sì Ci facciamo Kha'Zix Si viene da qua In qualche modo Spock arma Oh non lo so Abbiamo fatto la wave bot 10 secondi prima Va bene Allora ti guardo qui Abbiamo 10 secondi Prima che Sto andando mid io Devo andare mid Vado via Allora se arriva Kha'Zix Potrei morire Vieni anche tu mid In caso Sì sì Arriva Arriva Ma Zio Chris Non so che strada fare Vabbè Push mid Avete un po' di gente dietro Hai la ulti Sì Sto arrivando da te In caso Kha'Zix salti Anzi Non sono Ce l'abbiamo Ma rifatiamo Rifatiamo Va bene Rifatiamo Kha'Zix qui 3 secondi alla mia Sta arrivando Ah fuck Si è girato No si è girato Per quale motivo È distinto di Kha'Zix Perché a me non fa niente Sprecato il flash Vabbè Jack sta split pushando Se mettiamo pressure Diamo fastidio Sì Io sto andando a dare fastidio a questo qui Ah smite off Ah il lava mi sta ciucciando anche l'anima Cioè solo l'anima actually Nel senso che in fastidio sa volevo dire Scusate Cioè nel senso sbagliato parole Sembrava strano Oh Jacks comunque tra poco è diventato 100 C'era 50 Io adesso vado bene con i soldi Per un altro Non è male Ciucciato tutto Dai grazie crazy squanchi Sono pronto Cos'è che prendo Anti heal e la pozza Io ho la pozza Prendiamo le pozze Sì ma perché a te aiuta un bel po' Sì Non so se devo prendere quella di tenasi È la sua vola bisogna fare in fretta Sì esatto sto correndo Ma ecco l'ista che Ah stra bot è late Sì Ma perché allora sono tipo Oh 15 secondi sono abbastanza Ma devi fare vision Di prima Ah sì Io pusherei anche mid Adesso appunto lasciamo mid E corriamo diretti Ah io Io sono splittato Oh è un buon inizio Su carne Ragola dove sei? Eh prima vuoi le cose Ah prima vuoi le cose E' per il sub Ok Ma non mi rispetta Non c'è rispetto Per i giovani di oggi Per i giovani draghi Ma tu guarda tu e Nami Oh ok Allora Grazie Gianluca dei mesi Allora potete Ho preferito finire il drake Comunque non so Mi sembrava rischioso Andare deep Perché poi non sapevo Sì sì Vero? Cioè io potevo guardarlo No potevo dire Troppo potevo dire Perché io literally Potevo tenere a bada Anche senza andare Dentro Necessariamente Qualc'ho fatto E andare troppo dentro Bellissimo Lascia il tacchino Speramente si lascia No ma Nami è Battista Pasci farmo top Magari non vi fate prendere tutti Che Mi sono ammazzati in due Però abbiamo preso il flash Di KZX Nel loro suicidio Hanno preso Ah devo fare nel bar Non fanno Sì Eh Si potrebbe anche lasciare Non credo sia grave Comunque Dici? Non siamo anche Non c'è il loe Se hai loe Se hai loe Atp è problema Se non c'è il loe Vinciamo Vinciamo tranquillamente Ingaggi? Ah ma è No 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 Ce ne andiamo Ce ne andiamo O ne vado Oh cos'è questo? Ho un pigeon Ecco Apposte Fatemi andare Sono tutti bassi di vita Sono bassi di vita Non fanno baron Sì ma l'ho giocata male Mannaggia a me Corri corri Ma pare che la OI corre un sacco Con lei e il suo Alla deadline plate Vado a pusharmi i bot Arriva Kha'Zix dopo Faitabile per me Ok Bene Kha'Zix è ancora bot Sta arrivando da qui Ma perché lo stun di bar dura due ore? Sempre è stato così Sto fightando Kha'Zix Boh io mi faccio raggiunga Io ho trollato sto fight Facciamo 3 baron? Ah che mid ballando Ok Sto prendendo 16 Ok C'è un baron Ce ne andiamo Sì va bene Non ha TP là Quindi arriva in ritardo Ma lì ci prendiamo Te lo tanko io Ma poi hai il pesce Sì ma Dov'è il mio flash? Non salti oltre? Nemmeno Kha'Zix Stanno prendo gli avversari Io non ho smite Siamo sicuri? Va bene Smite a Kha'Zix? Sì sono a distanza Ce la dovremmo fare È lontano È lontano È lontano È lontano Basta ce ne andiamo Non mi sia bisogno Ce ne andiamo Ce ne andiamo Boh se chase hanno ovviamente Vi flanco da qui Vi flanco da qui No sbeto la bolla Io non ho Ciri per fightare Ok io allora C'ho due Che mi stanno rincorrendo Va bene Va benissimo Kha'Zix a flash No Ma Black Cleaver Ci sta con me Non so di sì Non ho mai buildato Boh a te non hai Sì o no Gia Ok ok Sì Gia Abbiamo fatto shopping adesso Sono un po' in ritardo E il drake ce lo lascio Kha'Zix è appena regolato Ok Io ho la fai spaitato Sicuramente Però è anche vero Che se è fortissimo Io sono enorme Sì Sì Oh ma smettila di farmare Sì è 18 Mi serve Sono tutti mid Hai due mid Quindi Dio che danno Sì Arrivo Vado a farmare i Kha'Zix Qui Sono bassi No ho quasi fatto i casi Pusciamo mid E pusciamo un bot Magari vado a farmare Fatti pure la curia Eh se mi Se non trollo E perdo il drago prima Magari Stavo pensando Ma Tu Ho sbagliato Io sto pushando bot Quindi datemi un secondo Io non voglio fai tardi Nemmeno io non ho fiori Allora non Cos'è quello? Ok me ne vado Scusate Se vuoi ingaggiare Io ti posso servire Ok io Ah vai che ulti? Ah ok Lol ha flashato Vabbè ancora il jump Sto bene Sto bene sta bene Ha flashato Ok Andiamo Avanti E non si rompendo Non si rompe Oh ma non il mio No Vai via No ho sbagliato io Vabbè Vabbè Jax è pressione di visore Dai Sì ma se lo prendeva Anche se non ho l'intalp Ok Wow Ok Ok Quanto Si Quanto Si Si Quanto Ah adesso ce l'ho. L'engaging era un po' ambizioso. Tu hai Rabadon o non fai Rabadon? Posso fare Rabadon, ma non ho una cattiva idea. Io in questo momento cos'è che faccio? Sono una scimmiaziana. Non capo soltanto le persone. Mi do fastidio. Sono passati i momenti di gloria in cui solo killavo dai tempi. Dai tempi. No, ho buttato. Ma non c'è niente, va bene. Guarda quanta speed col buff di nome. Se ne prendo il mio ultimo item, arrivo. Ah, prendo elisir. Cos'è che hai vinguto? Ah, è meglio. Sono prontissimo Flash. Anche io sono prontissimo. Via. Dobbiamo prendere Baron o Drake entrambi o andare mid? Come delle bestie? se prendiamo Baron. Ma andiamo mid, scusa, è aperta. Open base. Se ce la fightiamo bene, vinciamo anche. Ah sì, dovremmo vincere occhi chiusi i fight. Ok, occhi chiusi. Oh, mi piace. Io ci sono, se volete ingaggiare. Sì, adesso andiamo. Oh sì, ha avuto la sindrome da raid boss. Sì, non so perché è impazzito. Ma è quel desiderio dentro ognuno di noi quando giochiamo lì. Vado, te lo fai, scusa. Dopo... Prendiamoli, prendiamoli tutti. Le kill, le kill, il KDA, KDA. Esatto, esatto. Ma se missi no. Allora, innanzitutto non devi dirlo. Sì, bisogna... Mai sottolineare gli errori degli alleati. Esatto, va bene. È un burlo. Poi la mia shibanna è tipo un bandalo napoletano che sputa per terra ogni tanto. Non è che devi solo colpire i campioni. Devi anche rovinare la base avversaria. sputare per terra, sulle mura, sulle... dappertutto. No, è stato onesto, Jax. Eh sì, è scritta... Don't start your bank. Apprezziamo l'onestà. Ci sta. Non a mangiare, non è ancora finita. Bye, bye. встретisco il nostro dietro爆amore. 셀 *** dai